Lo stop ai furgoni della mensa ma anche dei pulmigli all'interno dei cortili scolastici dopo la tragedia dell'asilo primo maggio a Pili ha provocato qualche difficoltà e su più fronti. Il fatto è stato denunciato dalla CISAL e dal segretario provinciale Giuliana Vespa. Ieri c'è stata una riunione per gli addetti della società vivenda che si occupa delle mense in prefettura e il tentativo di conciliazione per ora è congelato. Si metteranno in campo degli incontri con i dirigenti scolastici per capire come risolvere. I furgoni della vivenda attualmente devono fermarsi fuori dai cancelli. Si immagina la situazione di difficoltà che aumenterà con l'inverno. Questi devono infatti garantire anche la consegna del cibo in orario ed evitare i deterioramenti. Si tratta di 21 addetti. In prefettura è emerso che il problema sicurezza purtroppo è sorto da un dramma e ne prendiamo tutti atto. Quindi qualcosa andava fatto ma ci deve essere collaborazione da tutte le parti. Quindi per il momento diciamo che io ho sospeso il verbale di raffreddamento quindi non ho né dichiarato lo sciopero né che ero soddisfatta di come era andata la riunione. C'era il dirigente dell'ufficio regionale scolastico. Abbiamo trovato questa quadra. Parleremo singolarmente con i dirigenti scolastici perché noi non pretendiamo neanche di trovare un'unica soluzione per tutti i plessi. Se ogni plesso ha una sua caratteristica vogliamo trovarla anche mirata al plesso. L'importante è che però non ci sia una chiusura totale come fino ad oggi c'è stata. Ecco il problema di scaricare, di fermarsi fuori dai cancelli, ci sono cibi, ci sono alimenti. Cosa provoca l'ASL, detta delle linee guida? Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere a parte gli infortuni dei dipendenti perché non sarà sempre estate. Quindi arriverà il gelo, arriverà la neve perché l'Aquila insomma la conosciamo tutti. E i ritardi enormi perché portare dei contenitori che pesano più di 35 kg in alcuni plessi ci sono le salite molto ripide quindi i tempi saranno molto più lunghi quindi lo sporzionamento avrà dei ritardi e i bambini avranno il cibo in ritardo con probabili, è sempre tutto probabile ma ci potrebbe essere delle contaminazioni o altro. Anche questa è sicurezza. Quindi dobbiamo cercare di trovare un modo che risolva questo problema sia per i bambini sia per i lavoratori e per la sicurezza dei dirigenti scolastici. Grazie a tutti.